L'Agropoli di Missa Gianluca Esposito ha affrontato in amichevole lo Sporting Ponte Cagnano dell'allenatore Parisi, ex giocatore ad Agropoli. Lo Sporting è una formazione militante nel campionato di promozione, categoria conquistata dopo la vittoria del Giro Neffe di prima categoria dello scorso anno. I Delfini hanno vinto per 5-0 con l'argentino Jordi Pasquale, autore di una tripletta. Hanno trovato la rete, anche l'ex Valdiano e Virtus Avellino Limatola e poi nel finale Niglio. In queste ore si attendono notizie sul possibile ripescaggio in Serie D, mentre la gara di Coppa con il San Vito Positano è stata rinviata a data da destinarsi.